Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Spero molto molto bene, oggi sono qui solo per voi, per fare un altro video pieno 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 di trigger super rilassanti, solo 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 per voi. Quindi mi raccomando, ricordatevi di indossare un paio di cuffie o auricolari, di stendervi, stendervi, stendervi sui vostri letti e cercare di chiudere gli occhi, va bene? Bene, quindi io posso cominciare. Unica cosa che vi dico, sono leggermente raffrettato, quindi se magari mi vedete parlare un po' col naso, oppure... Non lo so, altre cose? Scusate, scusate ma non lo faccio apposta, perché ho anche leggermente, leggermente mal di gola. Quindi un po' così mi stanno iniziando a venire un po' tutti quegli acciacchi, diciamo così, che vengono in inverno, perché in questo momento, nel momento in cui voi state guardando il video, ma anche nel momento in cui io sto registrando è inverno, è appena iniziato l'inverno, quindi senza dire altro. Primo trigger per scaldarci, cantelino scoppiettante della Wood Witch, che ne dite? Siete pronti? Primo trigger per scaldarci, cantelino scoppiettante della Wood Witch, che ne dite? Primo trigger per scaldarci, cantelino scoppiettante della Wood Witch, che ne dite? Ma poi il profumo che adesso c'è, secondo me, visto che ho il naso tappato, ne sento anche meno di quello esistente, però se lo sento già così, potete immaginare quanto profuma. Grazie. 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 Adesso sto pensando se lasciarla accesa oppure spegnerla. perché mi dispiacerebbe troppo spegnerla quindi sai cosa? se io l'appoggio qua si sente un po' di meno però comunque si sente sotto no? quindi io direi questa la lasciamo qua accesa e passiamo a un altro trigger e visto che la candela era un trigger del passato possiamo dire perché lo avevo già usato in passato perché non prendere anche il nostro cespuglietto che è veramente tanto 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 tempo che non lo usiamo non lo usiamo se per caso vi interessa io la candela l'ho comprata online però queste della Woodwitch le vendono anche da Viridea per esempio non in tutti perché in quello che ho io più vicino a casa non le vendono per esempio ma in quelli un po' più grandi ci sono pure questo qua l'ho preso da Viridea un bel po' di tempo fa un po' di tempo fa inoltre ho lasciato il telefono di là e non posso aprire le porte quindi non posso farvi vedere che ore sono però ve lo dico a voce attualmente è l'una e 42 di notte di domenica non so il numero non mi ricordo proprio ma dove lo trovate voi? un ASMR artist che si alza in piena notte solo per registrarvi un video cioè come minimo adesso dovete iscrivervi e mettere mi piace a questo video postiamolo dai lo appoggio qua senza bruciarmi la maglia adesso vorrei prendere un altro trigger che non ricordo se ho portato sul canale oppure no questa agenda la giro così perché altrimenti farebbe difetto con le luci ok 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 questa questa me l'hanno regalata ad un mio compleanno mi sembra di due anni fa o di un anno fa non mi ricordo proprio ho la memoria a prevedermi sono tori 2.0 no dai scherzo no dai scherzo aspetta quindi buon Grazie a tutti. 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 Ecco, adesso iniziano a darmi fastidio gli occhi. La ring light, però non mi hanno fatto fastidio fino ad adesso. Adesso deve cominciare. Lo possiamo. Quindi adesso come ultimo. Quindi adesso come ultimo trigger ho scelto. questa parretta di ciò, quindi la parretta di ciò, quindi la parretta di cioccolato bianco, quindi la parretta di cioccolato bianco. ma quanto è spesso, ma quanto è spesso quindi la parretta di ciò, cioè i insanza di più americami, quindi la parretta di ciò... in condizioni normali ne staccherei un pezzo e lo mangerei ma sono le due di notte e non mi sembra proprio il caso sinceramente anche perché mi sento ancora sazio dalla cena che ho fatto ieri sera che dite lo possiamo quindi eccoci qua eccoci qua eccoci qua vabbè quello l'ho appoggiato là lo posso dopo riprendiamo la candelina e ci auguriamo la buonanotte va bene quindi cucù cucù adesso tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della ups community ho sbagliato lato scusate ho sbagliato lato e se siete dei maschietti diventare i miei upsini poi lascia un bel mi piace se questo video ti è piaciuto e commenta qua sotto con tutto 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 quello che ti passa per la testa va bene il video di oggi purtroppo finisce qua ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua sullo schermo il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate va bene quindi io adesso vi auguro la buonanotte quindi buonanotte buonanotte un bacio e noi ci vediamo con il prossimo video va bene buonanotte buonanotte